La questione ambientale per quanto riguarda Taranto in modo particolare, la questione Ilva-Arcelor-Mittal, la tragedia che i tarantini vivono, tragedia come rischi per chi lavora all'interno dello stabilimento e per i rischi gravissimi e le situazioni conseguenti per chi vive nell'area tarantina e quindi subisce le letali emissioni inquinanti. Ne parliamo con il dottor Patrizio Mazza, candidato al Consiglio regionale pugliese, con la lista La Puglia domani, fitto presidente. Quello che voglio dire è che so bene io e l'ho sempre detto quante malattie, quante cose sono abbinate a un certo tipo di ambiente, ma non voglio tornare su questo argomento che ormai è un argomento detto. Vorrei sottolineare solo che la questione ambientale non è una questione di priori prerogativa di sinistra, non esiste sull'ambiente una questione di sinistra o di destra, esiste solo una questione di buonsenso che sia finalizzata alla tutela della salute. Allora, se ancorata a una questione industriale c'è un fatto solo economico che interessa solo chi ha la gestione di questa industria, questo non si sposa bene con la questione della salute per i cittadini. I cittadini vanno tutelati tutti e comunque, compresi coloro che ci lavorano che sono quelli più a rischio. Siccome il lavoro è fondamentale, una base fondamentale della vita, la politica a mio avviso deve fare di tutto per creare delle alternative per questi lavoratori. La cosa prioritaria è cercare di costruire in un arco di tempo di alcuni anni un'alternativa, un'alternativa che sia basata in buona parte su quello che dicevamo prima di economia del territorio. Io sostengo questa tesi e la sosterò sempre, ovviamente bisogna sempre tener conto di quello che necessita quotidianamente alle famiglie, che necessita anche riportare a casa un guadagno per poter sostenere la famiglia e questo è ben presente nella mia mente, per cui lungi da me dall'essere solo immediato o intempestivo certe volte, però purtroppo bisogna pensare a qualcosa di alternativo. Con fitto credo che ci siano le possibilità di cercare di pensare a qualcosa di alternativo. Sono andato per l'esperienza anche in un campo internazionale europeo, quello che possa essere la sua esperienza in termini politici e ormai di politico di lungo corso. Io credo che il problema ambientale non sia un problema che debba essere etichettato come di destra o sinistra, è un problema di tutti.